Il Comune di Teramo è pronto ad accogliere i profughi ucraini, in che modo vi state organizzando? Intanto siamo in attesa, abbiamo dato la disponibilità come altri comuni e come rete di comuni, come Anci Abruzzo, nello schema dell'Anci Nazionale, una disponibilità piena al Governo, in attesa appunto che vengano emanate queste linee guida e queste direttive da parte dei Ministeri che ci consentano di operare effettivamente. Quindi non solo solidarietà istituzionale, ma azione concreta per l'accoglienza nei confronti di chiunque, di qualsiasi nazionalità, a qualsiasi popolo appartenga, voglia fuggire dalla guerra. Al momento non è arrivato nessuno da quelle zone di guerra? Al momento no, non abbiamo informazioni dirette, insomma ripeto si sta ancora organizzando la macchina dell'accoglienza. Le previsioni? Ma non si fanno ancora previsioni numeriche, però è chiaro che tutto dipenderà dalla durata del conflitto, quindi l'auspicio forte è che come dice la nostra Costituzione, nella misura in cui stabilisce con forza che l'Italia ripudia la guerra, ribadiamolo con grande forza, in favore anche di uno Stato europeo finalmente unito, e questo è l'auspicio che tutti abbiamo, che non solo le azioni militari possano interrompersi subito, ma che si costruisca una stabile e duratura pace in quella parte del territorio europeo che non può restare instabile, quindi andando anche ad affrontare le ragioni per comprendere tutto quello che è successo e superarle definitivamente.